Il busto dell'imperatore Nella Galizia orientale, oggi Polonia, molto distante dall'unica linea ferroviaria che golleva presmesi Lavrodi, si trova il villaggio di Lopatini, nel quale ho in mente di narrare una curiosa storia. Vogliano i lettori gentilmente perdonare chi scrive e fa precedere i fatti che vuol raccontare da qualche chiarimento storico-politico. I capricci assurdi di cui la storia mondiale ha dato prova negli ultimi tempi lo obbligano a ciò. Poiché ai più giovani fra i lettori, occorre forse spiegare che una parte dei territori orientali che oggi costituiscono la Repubblica Polacca è stata, sino alla fine della Grande Guerra, che viene chiamata Guerra Mondiale, una delle molte terre della corona della vecchia monarchia austro-ungarica. Nel villaggio di Lopatini viveva dunque il discendente di un'antica famiglia polacca, il conte Frank Savie Morstyn, una famiglia che, si è detto per inciso, aveva origini italiane ed era arrivata in Polonia nel XVI secolo. Il conte Morstyn, da giovane, aveva prestato servizio nel nono Dragoni. Egli non si considerava né polacco né italiano, né un aristocratico polacco né un aristocratico di origine italiana. No, come tanti i suoi pari negli ex paesi della corona austro-ungarica, egli era semplicemente uno dei più nobili e più puri tipi di austriaco, e cioè un cosmopolita e dunque un nobile autentico. Se, per esempio, gli avessero chiesto, ma a chi sarebbe venuta in mente una domanda tanto insensata, a quale nazione o a quale popolo si sentisse di appartenere, il conte sarebbe rimasto alquanto confuso, addirittura stupefatto davanti all'interrogante, e probabilmente anche un poco infastidito e un poco indignato. In base a quali indizi, anche volendo, avrebbe potuto stabilire la sua appartenenza a questa o a quella nazione. Parlava ugualmente bene quasi tutte le lingue europee. Si sentiva di casa in quasi tutti i paesi europei. I suoi amici parenti vivevano sparsi per il vasto e variopinto mondo. Un'immagine in miniatura della varietà del mondo era appunto l'imperial regio a monarchia, e perciò questa era l'unica patria del conte. Uno dei suoi cognati era capitano distrittuale a Sarajevo. Un altro consigliere di prefettura a Praga. Uno dei suoi fratelli prestava servizio come tenente di artiglieria in Bosnia. Un suo cugino era consigliere d'ambasciata a Parigi. Un altro, proprietario terriero nel banato ungherese. Un terzo era nel servizio diplomatico italiano. Un quarto, per pure e semplice simpatia verso lontano oriente, viveva da anni a Pechino. Di quando in quando, Frank Saver era solito far visita ai suoi parenti. Più spesso, si intende, a quelli che abitavano entro i confini della monarchia. Erano, come si usava a dire, i suoi viaggi di ispezione privati. Erano risolvati non solo ai suoi parenti, ma anche agli amici, alcuni ex discepoli dell'Accademia Teresiana che vivevano a Vienna. Qui il conte Morstin soggiornava due volte l'anno, l'estate e inverno due settimane e più. Quando così viaggiava in lungo e in largo e di traverso per la sua molteplice patria, ritornavano graditi soprattutto a quei tratti caratteristici e assolutamente specifici, che nella loro natura sempre uguale, anche se varia pinta, che ripetevano in tutte le stazioni, in tutti i chioschi, in tutti gli edifici pubblici, scuole e chiese di tutti i paesi della corona imperiale. Ovunque i gendarmi portavano lo stesso cappello piumato e lo stesso elmetto color argilla col pomodorato e la scintillante aquila bicipite degli Asburgo. Ovunque le porte di legno delle imperial regge rivendite di tabacco erano dipinte a strisce diagonali gialle e nere. Ovunque i doganieri portavano le stesse dragone verdi, poco mancava che fiorissero, alle sciabole luccicanti. In ogni guarnigione c'erano le stesse giubbe azzurre d'ordinanza e i pantaloni neri da sera degli ufficiali di fanteria a passeggio per il corso, gli stessi pantaloni rossi dei soldati di cavalleria, le stesse tacche color caffè dell'artiglieria. Ovunque, in questo grande e variopinto impero, ogni sera, nello stesso momento, quando gli orologi dei campanili battevano le nove, le trombe suonavano lo stesso segnale di ritirata, fatto di allegre domande e malinconiche risposte. Ovunque c'erano gli stessi caffè con le volte fumose, le nicchie buie dove i giocatori di scacchi stavano accoccolati come strani uccelli, i banchi pieni di bottiglie colorate e bicchieri scintillanti, dietro cui servivano bionde cassiere dal copioso seno. Quasi ovunque, in tutti i caffè dell'impero, trisciava sulle ginocchia già un po' tremolanti, i piedi sollevati in punta, la salvetta sul braccio, il primo cameriere con il viso incorniciato dai favoriti. Lontana, umile copia dai vecchi servitori di sua maestà, di quel gran signore con i favoriti, al quale appartenevano tutti i paesi della corona, tutti i gendarmi, tutti i doganieri, tutte le rivendite di tabacchi, le barriere, le ferrovie, i popoli. E in ogni paese si parlava un'altra lingua e anche più di una. E ciò che tanto estagiava il conte era il solenne, eppure gaio giallo e nero, che splendeva fedele in mezzo ai diversi colori. L'altrettanto solenne e lieto dio conservi, il più familiare fra tutti i canti popolari. Il tedesco tutto speciale degli austriaci, nasale, pigro, morbido, che ricorda la lingua del Medioevo e che sempre si faceva sentire tra gli svariati idiomi e dialetti dei popoli. Come ogni austriaco di quel tempo, Morstin amava la stabilità della mutabilità continua, la consuetudine nel mutamento, il familiare in mezzo all'insolito. Così quel che è straniero gli diveniva domestico senza perdere il suo colore e la patria aveva l'eterno incanto dell'estero. Nel suo villaggio di Lopatini il conte era più di qualsiasi autorità ufficiale che i contadini e gli ebrei conoscevano e temevano, più del giudice del capoluogo vicino, più del capitano distrettuale di lì, più di qualunque degli ufficiali superiori che ogni anno durante le manovre comandavano le truppe, trasformavano case e casupole in alloggiamenti e rappresentavano in genere quella particolare potenza guerresca proprio a delle manovre che fa più impressione di quando essa si manifesta nella guerra reale. All'agente di Lopatini pareva che conte non fosse soltanto un titolo nobiliare, ma anche il nome di un'altissima carica. Né la realtà dava loro torto da che il conte Maorstein, in virtù della naturale considerazione di cui godeva, poteva ridurre le tasse, esentare dal servizio militare i figli cagionevoli di parecchi ebrei, patrocinare domande di grazia, alleviare la pena a coloro che erano innocenti o troppo severamente condannati, ottenere riduzioni ferroviarie per i poveri, condurre a una giusta punizione di andarmi, poliziotti e funzionari che abusavano della loro autorità, fare di aspiranti all'insegnamento in attesa di un posto dei supplenti di ginnasio, dei sotto ufficiali a riposo, dei rivenditori di tobacchi, dei portavalori, dei telegrafisti, di studenti, figli di contadini e di ebrai poveri, dei borsisti. E come faceva volentieri tutte queste cose. Egli era infatti un'autorità non prevista dallo Stato, che senza dubbio aveva più lavoro della maggior parte degli uffici statali nei quali doveva passare per intercedere. Assolveva i suoi doveri con l'aiuto di due segretari e tre scrivani. Inoltre, fedele alla tradizione della sua casa, faceva il nobile benefattore, come si diceva al villaggio. Da più di cent'anni, ogni venerdì, si radunavano davanti al balcone di casa Morsti vagabondi e mendicanti dei dintorni per ricevere dai servitori monete di rame avvolte nella carta. Di solito il conte compariva sul balcone e salutava i poveri. Ed era come se ringraziasse i mendicanti che lo ringraziavano, come se benefattori e beneficiati si scambiassero gratitudine. Detto tra parentesi, non era sempre la bontà del cuore all'origine di tutta questa beneficenza, bensì una delle leggi non scritte di tante e tante nobili famiglie. Poteva darsi benissimo che i loro bisavoli, da secoli prima, avessero praticato il bene, l'assistenza e la carità per pur amore del popolo. A poco a poco, però, con succedersi delle generazioni, questa bontà si era, per così dire, congelata e irrigidita in dovere e tradizione. Del resto, soccorrere con zero gli altri era l'unica attività, l'unico svago del conte Morstine. Dava alla sua vita il quantoziosa di gran signore che, a differenza dei suoi pari e dei suoi vicini, non si interessava nemmeno di cazza, uno scopo, un contenuto e una continua, gradevole conferma del proprio potere. Se all'uno aveva procurato una rivendita di tabacchi, all'altro una licenza, a un terzo un posto, a un quarto un'audienza, non soltanto la sua coscienza era pagata, ma anche il suo orgoglio. Se invece falliva nell'intercedere per questo o per quello dei suoi protetti, allora la sua coscienza era inquieta e l'orgoglio ferito. E non si arrendeva, si appellava a tutte le stanze finché non aveva raggiunto il proprio scopo, ossia quello dei suoi raccomandati. Perciò la popolazione l'amava e l'onorava. Il popolo non ha un'idea esatta delle ragioni che inducono un uomo potente ad aiutare i miseri e gli impotenti. Vuole semplicemente vedere un buon signore e spesso, nella sua fiducia infantile nel potente, il popolo è più magnanimo di costui, nel quale, credulo com'è, esso vede sempre il magnanimo. È il più profondo e più nobile desiderio del popolo sapere il potente giusto e generoso. Per questo si vendica con tanta ferocia quando i signori lo deludono, simile a un bambino che fa magari a pezzi la sua piccola locomotiva se per una volta non ha funzionato. Chiediano perciò al popolo toccato di solidi come ai bambini e dei potenti giusti. Riflessioni del genere il conte Morstyn sicuramente non faceva quando allargiva protezione, bontà e giustizia. Ma queste riflessioni che forse avevano indotto l'uno o l'altro dei suoi andenati ad essere buoni, misericordiosi e giusti, agivano ancora vive nel sangue o come si dice oggigiorno nel subcosciente del pronipote. E come si sentiva obbligato ad aiutare i più deboli di lui né più né meno provava sentimenti di stima, di rispetto e obbedienza nei confronti di coloro che erano posti più in alto di lui. La persona di sua maestà imperaldreggia che gli aveva servito restava per lui una figura al di fuori di tutto ciò che è normale. Al conte, per esempio, sarebbe stato impossibile guardare all'imperatore semplicemente come un essere umano. La fede nella tradizionale gerarchia era talmente stabile e forte nell'animo di Franz Saver che gli amava l'imperatore non già per i suoi attributi umani bensì per quelli imperiali. Rompeva ogni rapporto con amici, conoscenti e parenti se costoro in sua presenza si lasciavano scappare di bocca una parola a sul giudizio men che rispettosa nei confronti dell'imperatore. Forse presentiva già allora molto prima del crollo della monarchia che frivole battute possono essere più micidiali degli attentati di delinquenti e dei solenni discorsi di ribelli ambiziosi che vogliono rifare il mondo. La storia avrebbe poi dato ragione ai presentimenti del conte Morstin. La vecchia monarchia austro-ungarica non perì affatto per l'avacqua retorica dei rivoluzionari ma piuttosto per l'ironica infedeltà di coloro che avrebbero dovuto essere i suoi fedeli sostegni. Un giorno qualche anno prima della grande guerra chiamata la guerra mondiale venne comunicato in via riservata al conte Morstin che le prossime manovre presente l'imperatore avrebbero avuto luogo all'opatini ed intorni. Per qualche giorno per una settimana o più l'imperatore avrebbe abitato a casa sua. Morstin fu preso da una vera esaltazione andò dal capitano distrettuale discusse con le autorità civili e politiche con le autorità comunali della cittadina vicina fece rifornire di uniformi e sciabole nuove poliziotti e guardie notturne di tutta la zona si trattenne con il clero di tutte e tre le confessioni il parroco cattolico greco quello cattolico romano e il rabbino tese un discorso per il borgomastro ruteno della cittadina che questi non sapeva leggere ma che doveva imparare a memoria con l'aiuto del maestro comprò vestitini bianchi per le bambine del villaggio mise in allarme i comandanti dei reggimenti stanziati nelle vicinanze e tutto questo in via riservata sicché già dal principio della primavera un bel po' prima delle manovre dovunque nella zona si sapeva che l'imperatore in persona sarebbe stato presente in quel tempo il conte Mostin non era più giovane magro e precocemente invecchiato celibe un vero scapolone appariva un po' strambo agli occhi dei più gagliardi suoi pari un po' comico e come di un altro mondo mai da quelle parti si era vista una donna accanto a lui e mai aveva tentato di sposarsi mai era stato visto bere né giocare né amare non aveva altra manifesta passione se non quella di contestare il problema delle nazionalità a quel tempo infatti cominciava a imperversare nella monarchia il cosiddetto problema delle nazionalità tutti quanti che la volessero o dovessero far finta di volerlo professavano la loro appartenenza all'una o all'altra delle molte nazioni che esistevano sul territorio della vecchia monarchia nel diciannovesimo secolo come ognuno sa si era scoperto che ogni individuo se veramente voleva essere riconosciuto come tale e come cittadino doveva appartenere a una determinata nazione o razza dall'umanità alla bestialità attraverso la nazionalità aveva detto il poeta austriaco Gril Parzer allora si faceva appunto con la nazionalità il primo passo verso quella bestialità che oggi sperimentiamo i sentimenti nazionali a quel tempo si vide chiaramente che traevano origine dalla volcarità dell'animo e ne erano il riflesso di tutti coloro che costituivano lo stato più volgare di una nazione moderna erano di solito dei fotografi che prestavano servizio volontario nel corpo dei vigili del fuoco dei cosiddetti pittori accademici che per mancanza di talento non avevano trovato asilo nell'accademia di belle arti e perciò erano diventati cartellonisti o decoratori i maestri di scuola elementare insoddisfatti che volevano diventare insegnanti di scuola secondaria degli aiutanti farmacisti che volevano diventare dottori degli odontotecnici che non riuscivano a diventare dentisti degli impiegati subalterni delle poste e delle ferrovie fattorini di banca guardie forestali e in genere all'interno di ciascuna delle nazioni dell'impero tutti coloro che accampavano vane pretese di limitata considerazione da parte della società borghese poco alle volte si arresero anche i cosiddetti ceti superiori e tutti gli uomini che non erano mai stati altro che austriaci a Tarnopol a Sarajevo a Vienna a Brno a Praga a Tsernobis a Oderburg a Tropau nient'altro che austriaci cominciarono allora obbedendo alle esigenze dei tempi a dichiarare la loro appartenenza alla nazione polacca ceca ucraina tedesca rumena slovena croata e così via presso poco in quel tempo fu introdotto nella monarchia anche il suo pragio universale segreto e diretto il conte Morstin lo odiava non meno del concetto moderno di nazione all'ostro ebreo Salomon Pinowski l'unico essere umano in assoluto del cui raziocinio in certo modo si fidasse soleva dire stammi a sentire Salomon questo Darwin disgustoso che va dicendo che gli uomini sono discesi dalle scimmie pare proprio che abbia ragione agli uomini non basta più essere divisi in popoli no vogliono appartenere a determinate nazioni nazionale capisci Salomon un'idea del genere non viene in mente neanche alle scimmie la teoria di Darwin mi pare ancora incompleta ma forse le scimmie discendono a loro volta dai nazionalisti perché esse rappresentano un progresso tu conosci la Bibbia Salomon tu sai che lì sta scritto che il sesto giorno Dio ha creato l'uomo non l'uomo nazionale non è vero Salomon giustissimo signor conte dicevo l'ebreo Salomon ma parliamo d'altro continuava il conte quest'estate dobbiamo aspettare l'imperatore ti darò del denaro tu addobberai il tuo negozio e illuminerai la finestra pulirai il ritratto dell'imperatore e lo metterai alla finestra ti regalerò una bandiera gialla e nera con l'aquila bicipita la farai sventolare dal tetto capito si l'ebreo Salomon Pinovski capiva come del resto tutti quelli con i quali il conte aveva parlato dell'arrivo dell'imperatore in estate ebbero luogo le manovre e l'imperare resa maestà apostolica prese dimora nel palazzo del conte Morstin si vedeva l'imperatore uscire ogni mattina a cavallo per assistere alle esercitazioni e i contadini e i mercanti ebraide dintorni si radunavano a guardare quel vecchio che li governava e appena compariva col suo seguito gridavano evviva e urrà e necce si è ciascuno nella propria lingua alcuni giorni dopo la partenza dell'imperatore si presentò al conte Morstin il figlio di un contadino dei dintorni questo giovane che aveva l'ambizione di diventare scultore aveva preparato un busto dell'imperatore in pietra arenaria il conte Morstin fu entusiasta promise di procurare al giovane scultore un posto gratuito all'accademia delle arti di Vienna il busto dell'imperatore lo fece collocare davanti all'entrata del suo palazzetto qui rimase per anni sino allo scoppio della grande guerra che chiamano la guerra mondiale prima di arruolarsi volontario il conte Morstin vecchio magro con la testa calva agli occhi infossati come era diventato col passare degli anni ordinò di rimuovere il busto dell'imperatore che lo fece imballare nella paglia e nascondere in cantina lì rimase dunque fino alla fine della guerra e della monarchia fino al ritorno del conte Morstin e alla creazione di una nuova repubblica polacca il conte Franz Xaver Morstin era dunque l'impatriato ma lo si poteva definire un ritorno in patria senza dubbio erano ancora gli stessi campi gli stessi boschi le stesse casupole la stessa stirpe di contadini la stessa stirpe diciamo da che molti di quelli che il conte aveva conosciuto erano caduti in guerra era inverno e si sentiva l'approssimarsi del Natale come sempre in quel periodo come già per tanti anni prima della guerra la lopatica era ghiacciata sui castagni spogli stavano rannicchiate immobili le cornacchie e sui campi verso cui si affacciavano apponente le finestre della casa soffiava l'eterno e quieto vento dell'inverno orientale c'erano a seguito della guerra vedove e orfani al villaggio materiale sufficiente per la beneficenza del signore rimpatriato ma invece di salutare l'opatini come la patria ritrovata il conte morsti presse ad abbandonarsi a misteriose e insolite riflessioni sul problema della patria in genere ora che questo villaggio egli si diceva appartiene alla polonia e non all'austria è ancora la mia patria cos'è mai patria quella certo uniforme del gendarme e del duganier che abbiamo incontrato nella nostra infanzia non è forse altrettanto patria quanto il pino e l'abete la palude il prato la nuvola il ruscello se però mutano gendarmi e finanziari mentre pino e abete il ruscello e palude restano i medesimi è ancora patria questa non mi sentivo forse a casa mia in questo luogo continuava a chiedersi il conte solamente perché apparteneva a un signore al quale appartenevano anche innumerevoli altri luoghi altro genere che io amavo non c'è dubbio i capricci assurdi della storia hanno distrutto anche la gioia personale che veniva da ciò che io chiamavo patria ora dappertutto fanno un gran parlare della nuova patria ai loro occhi io sono un cosiddetto senza patria lo sono sempre stato ahimè era una volta una patria una vera una cioè per i senza patria l'unica possibile era la vecchia monarchia ora sono un senza patria che ha perduto la vera patria dell'eterno viandante nell'illusoria speranza di poter dimenticare dall'estero questa situazione il conte decise di partire al più presto con suo grande stupore apprese però che c'era bisogno di un passaporto e di alcuni cosiddetti visti per andare in quei paesi che aveva scelto a meta del suo viaggio ora era abbastanza vecchio da reputare passaporto e visti e tutte le formalità che dopo la guerra erano diventate le ferre e leggi dei rapporti fra uomo e uomo come i sogni fantastici e poeridi ma rassegnato al destino di trascorrere il resto della sua vita in un torbido sogno e con la speranza tuttavia di trovare fuori in altri paesi una parte di quella vecchia realtà in cui aveva vissuto prima della guerra e gli si adattò all'esigenza del mondo di fantasmi presso un passaporto si procurò dei visti e cominciò con l'andare in Svizzera dove pensava che potesse ancora trovare la vecchia pace semplicemente perché quel paese non aveva partecipato alla guerra lui conosceva la città di Zurigo da molti anni erano all'incirca dodici che non l'aveva più vista pensava che non dovesse offrirgli nulla di particolare né in bene né in male la sua sensazione corrispondeva all'opinione non totalmente ingiustificata di un mondo un po' viziato per non dire amante dell'avventura sulle oneste città dell'onesta Svizzera che cosa mai avrebbe potuto succedervi non di meno per un uomo uscito dalla guerra e dalle regioni orientali dell'ex monarchia austriaca la tranquillità di una città che della guerra aveva conosciuto solo i profughi era già qualcosa di simile a un'avventura Franz Saver Morstin si arrese nei primi giorni a quella tranquillità che tanto a lungo gli era mancata mangiava beveva e dormiva un giorno però in un locale notturno di Zurigo successe quel fattazzo che costrinse il conte Morstin ad abbandonare poi subito il paese in quel tempo si era parlato più di una volta sui giornali di tutto il mondo di un ricco banchiere che non solo si diceva aveva preso in garanzia di un prestito la maggior parte dei gioielli della famiglia imperiale d'Austria ma persino la vecchia corona degli Asburgo non c'era dubbio che queste notizie venissero dalle bocche e dalla penna di quei ficcalaso chiamati giornalisti e anche se la notizia che una certa parte del patrimonio della famiglia imperiale fosse finita nelle mani di un banchiere privo di scrupoli poteva essere vera non era questo il caso della vecchia corona degli Asburgo come Frank Savermorstin credeva di sapere con sicurezza ora una notte il conte capitò in uno dei pochi locali notturni accessibili solo ai conoscitori della costumata città di Zurigo nella quale come si sa la prostituzione è vietata la dissolutezza rigorosamente interdetta e il peccato noioso non meno che costoso non già che fosse andato in cerca di questo no la tranquillità pure semplice aveva cominciato a tediarlo e a procurargli notti insonni e così aveva deciso di passarle queste notti in un posto qualsiasi cominciò a bere era seduto in uno dei pochi angoli tranquilli di questo locale a dire il vero lo disturbavano le luci rossastre all'ultima moda americana il candore igienico del balista che faceva pensare a un chirurgo il biondo artificiale dei capelli delle ragazze che per associazione ricordava immediatamente la farmacia ma che cosa non aveva già fatto l'abitudine il povero vecchio austriaco eppure dalla quiete che a stento sarà imposto in quell'ambiente si riscosse spaventato nell'udire una voce stridula a gridare ed ecco qui signore e signori la corona degli asburgo Franz Xavier si levò vide al centro del locale bislungo una gaia e folta brigata di gente un primo sguardo gli rivelò che a quel tavolo erano rappresentati tutti i tipi che lui odiava anche se non gli era capitato fino ad allora di avere a che fare con uno solo dei loro rappresentanti donne ossigenate con sottane corte e ginocchi impudenti peraltro piuttosto brutti smilzi e flessuogi giovanotti di carnagione olivastra che sorridevano con dentature perfette come quelle dei busti pubblicitari degli odontotecnici compiacenti vezzosi nelle mosse pavidi eleganti e insidiosi insomma degli astuti barbieri signori pianziani con pancia e calvizie accuratamente e vanamente occultate socievoli libidinosi gioviali e con le gambe storte in breve un campionario di quella sorta di uomini che amministravano provvisoriamente l'eredità del mondo e rovina per cederla con profitto qualche anno dopo agli ancora più moderni e criminali eredi a quel tavolo salzò in quell'istante uno dei signori attempati agitando nella mano una corona e poi se la poggiò sulla testa calva fece il giro del tavolo avanzò al centro del locale ballonzolò crollando il capo e la corona che c'era sopra e intanto cantava sulla melodia di una canzone a quel tempo popolare la sacra corona si porta così Franz Xavier sulle prime non capì affatto il senso di questo disgustoso spettacolo avvertì soltanto che quella compagnia era composta di vecchi indecolosi abbindolati da mancagni in abiti succinti di cameriere che festeggiavano il loro giorno di libertà di intranese che dividevano coi camerieri il guadagno ricavato dallo champagne e dal proprio corpo di bellimbusti scioperati che facevano commercio di donne e di valuta con spalle larghe e imbottite e pantaloni svolazzanti che parevano sottane di ripugnanti sensali che vivevano procurando case negozi cittadinanze passaporti concessione buoni partiti certificati di battesimo professioni di fede titoli nobiliari adozioni bordelli e sigarette di contrabbando era la società che in tutte le capitali del mondo europeo comunque sconfitto decisa fermamente a vivere cibandosi di cadaveri infamava il passato con bocche sazie eppure insaziabili saccheggiava il presente e annunciava vantandolo il futuro costoro erano dopo la guerra i padroni del mondo il conte morstin si sentiva il cadavere di se stesso era sulla sua tomba che quelli ora ballavano per preparare la vittoria di gente simile centinaia di migliaia di uomini erano morti straziati e centinaia di onestissimi moralisti avevano preparato il tramonto della vecchia monarchia ospirato il suo crollo e la liberazione delle nazioni ma ora guarda cosa si vede sulla tomba del vecchio mondo e attorno alle culle delle nazioni neonate e degli stati secessionisti ballavano i fantasmi dell'american bar notturno morti si accostò per vedere meglio la natura umbratile di questi fantasmi ben pasciuti e concupiscenti risvegliò la sua curiosità ed egli riconobbe sopra il cranio calvo dell'uomo che ballondolava sulle gambe storte la copia non poteva essere che la copia della corona di santo Stefano il cameriere nel suo zelo di informare i clienti di tutto quanto fosse degno di attenzione venne da Franz Xavier e disse è il banchiere di Wallachim un russo sostiene di possedere tutte le corone dei monarchi detronizzati ogni sera viene e ne porta una nuova ieri era la corona degli zar oggi la corona di santo Stefano il conte Morstin sentì il suo cuore arrestarsi un secondo soltanto in quest'unico secondo però più tardi gli parva che fosse durato almeno un'ora egli visse una completa metamorfosi fu come se dentro di lui sorgesse un Morstin sconosciuto terribile estraneo che saliva e cresceva si propagava prendeva possesso del corpo del vecchio e ben noto Morstin e ancora di più di tutto lo spazio dell'American Bar mai in vita sua mai dalla sua infanzia Franz Xavier Morstin aveva sperimentato la collera era una natura mite e la sicurezza che gli garantivano il trango la giatezza il lustro del suo nome la sua importanza l'aveva finora in qualche modo preservato da tutta la volgalità di questo mondo da ogni incontro con la sua bassezza altrimenti avrebbe certamente conosciuto prima la collera fu come se in quell'unico secondo in cui si compiva la sua metamorfosi e gli si accorgesse che il mondo si era trasformato già molto prima di lui fu come se ora sentisse che la sua metamorfosi era soltanto una necessaria conseguenza della generale trasformazione e più ancora della collera a lui sconosciuta che ora saliva e cresceva dentro di lui schiumando oltre i confini della sua personalità doveva essere cresciuta la volgarità la volgarità di questo mondo l'abiazione che per tanto tempo si era acquattata e nascosta sotto la veste della lealtà adulatrice e della sudditanza servile fu come se lui che aveva da sempre considerato attributo naturale di tutti gli uomini senza mettergli alla prova il senso della propria dignità in questo secondo soltanto riconoscesse l'errore della propria vita l'errore del suo nobile cuore quello cioè di fare credito a tutti un credito illimitato e la sua improvvisa scoperta lo colmò di quella nobile vergogna che è fida sorella della nobile collera alla vista della bassezza l'uomo nobile si vergogna doppiamente sia perché il solo fatto che essa esiste lo fa arrossire sia poi perché si accorge subito che il suo cuore è stato raggirato si sente ingannato il suo orgoglio si ribella all'idea che abbiano potuto ingannare il suo cuore non fu in grado di misurare di soppesare e di riflettere gli pareva che qualsiasi specie di violenza per bestiale che fosse non potesse bastare a punire e vendicare la bassezza di quell'uomo che ballava con le corone sopra il crano calvo di sensale ogni sera con una nuova un grammofono sbraitava la canzone di Hans che armeggia col ginocchio le intrenese squittivano i giovanotti battevano le mani il barista tutto in bianco chirurgico faceva tintinare bicchieri cucchiai bottiglie versava e mescolava distillava stregonesco da recipienti metallici i misteriosi filtri magici della nuova era sbatacchiava piatti e cucchiaini e di quando in quando rivolgeva un'occhiata benevole che faceva già il calcolo delle consumazioni allo spettacolo offerto dal banchiere le lampade rossastre vibravano ad ogni pesante sobbalzo dell'uomo calvo la luce il grammofono i rumori prodotti dal barista il gorgoglio e lo squittio delle donne misero il conte morstin in uno stupefacente stato di furore accadde l'incredibile per la prima volta in vita sua fu ridicolo e puerile si armò della bottiglia di spumante mezzavuota e di un sifone azzurro si accostò gli sconosciuti e mentre con la sinistra spruzzava di selza la tavolata quasi si trattasse di spegnere un brutto incendio con la destra sbattei la bottiglia sulla testa del ballerino il banchiere cadde a terra la corona gli cadde dal capo e mentre il conte si chinava per raccoglierla come si trattasse di salvare una vera corona e tutto ciò che rappresentava gli si avventarono contro camerieri ragazze e bellimbusti intontito dal profumo forte delle ragazze dai colpi dei giovanotti il conte morstin fu alla fine portato in strada là davanti alla porta dell'american bar il cameriere zelante gli presentò il conto su un vassoio d'argento a cielo scoperto alla presenza per così dire di tutte le stelle lontane e indifferenti perché era una limpida notte d'inverno il giorno dopo il conte ritornò all'Opatini perché mai si diceva in viaggio non ritornare all'Opatini siccome il mio mondo sembra essere definitivamente sconfitto io non ho più una patria vera ed è meglio che vada ancora a ricercare le rovine della mia patria pensava al busto dell'imperatore Francesco Giuseppe che riposava nella sua cantina e al corpo di questo suo imperatore che da tempo giaceva nella cripta dei Capuccini non ho sempre stato un originale così prosegueva nei suoi pensieri nel mio villaggio e nei dintorni resterò un originale telegrafò al suo fattore quando sarebbe arrivato e quando arrivò lo aspettavano come sempre come nei tempi andati quasi non ci fosse stata una guerra nel crollo della monarchia né una nuova repubblica polacca poiché è uno dei grossi errori dei nuovi o come amano definirsi dei moderni statisti pensare che il popolo la nazione si interesse la politica mondiale con la stessa loro passione non è della politica mondiale che il popolo vive e inciò si differenzia simpaticamente dai politici il popolo vive della terra che coltiva del commercio che esercita del mestiere che sa fare eppure vota alle elezioni muore nelle guerre e paga le tasse all'erario comunque sia le cose stavano così nel villaggio del conte Morstin a Lopatini e l'intera guerra mondiale e tutti i cambiamenti della carta geografica d'Europa non avevano cambiato i sentimenti del popolo di Lopatini come perché il buonsenso degli osti ebrei dei contadini ruteni e polacchi si opponeva agli incomprensibili capricci della storia mondiale i suoi capricci sono astratti le inclinazioni e le avversioni del popolo sono invece concrete il popolo di Lopatini per esempio conosceva da tanti anni il conte Morstin i rappresentanti dell'imperatore di Gliasburgo venivano nuovi gendarmi ma un ufficiale giudiziario resta un ufficiale giudiziario e il conte Morstin resta il conte Morstin sotto il dominio degli Asburgo la gente era stata felice e infelice secondo la volontà di Dio c'è sempre nella vita dell'uomo indipendentemente da ogni vicenda storica da repubblica e monarchia dalla cosiddetta autonomia nazionale o dalla cosiddetta oppressione straniera c'è sempre un raccolto buono o cattivo frutta sana e guasta vestiamo e prolifico e malaticcio il pascolo grasso o quello magro la pioggia a tempo debito il sole fecondo è quello che porta siccità e malanni per il mercante ebreo il mondo era fatto di buoni e cattivi clienti per l'oste di buoni e fiacchi bevitori per l'artigiano poi era importante se la gente aveva se no bisogno di nuovi tetti nuovi stivali nuovi pantaloni nuove stufe nuovi comignoli nuove botti così almeno stavano le cose come si è detto all'Opatini e per quanto riguarda la nostra particolare opinione ne deriva che tutto il mondo quanto è grande non è poco così diverso come i capipopoli politici pretenderebbero dal piccolo villaggio di l'Opatini quando hanno letto i giornali ascoltato i discorsi e letto i deputati discussero lo stesso con gli amici gli avvenimenti del mondo i bravi contadini artigiani e commercianti e nelle grandi città anche gli operai ritornano alle loro case e ai loro luoghi di lavoro e felicità o pena li aspettano a casa figli malati o sani mogli litigiose o pacifiche clienti che pagano o no creditori molesti o pazienti un vitto buono o cattivo un letto pulito o uno sporco anzi è nostra convinzione che le persone semplici non si preoccupino affatto della storia mondiale anche se si dilungano a parlarne la domenica ma questa come si è detto può darsi che sia la nostra personale opinione qui noi dobbiamo unicamente raccontare del villaggio di Lopatini e là le cose stavano come le abbiamo appena descritte quando il conte Morsin fu tornato a casa si recò immediatamente da Solomon Pinovski il saggio ebreo in cui come in nessun'altra persona a Lopatini la semplicità e la saggezza convivevano d'amore e d'accordo quasi fossero sorelle e il conte chiese all'ebreo Salomon cosa te ne pare di questa terra qua giù signor conte disse Pinovski non ne ho la minima stima il mondo è andato in malora non c'è più un imperatore si reggono dei presidenti ed è come quando ho un processo e mi cerco un buon avvocato il popolo intero si sceglie così un avvocato che lo difenda ma io mi chiedo signor conte davanti a quale tribunale una volta ancora davanti al tribunale di altri avvocati e se anche il popolo non ha un processo e quindi non ha nemmeno bisogno di difendersi pure tutti noi sappiamo che la sola esistenza dell'avvocato ci tira addosso dei processi e così ora ci saranno continuamente processi io ho ancora la bandiera gialla e nera che lei mi ha regalato signor conte che me ne faccio è in soffitta ho ancora il ritratto del vecchio imperatore che ne devo fare ora leggo i giornali mi occupo un po' del negozio e un po' del mondo signor conte io so che razza di stupidaggini combinano ma i nostri cittadini non ne hanno la minima idea credono semplicemente che il vecchio imperatore abbia introdotto nuovi uniformi e liberato la Polonia non risiede più a Vienna ma a Varsavia lasciali stare disse il conte Mosty e andò a casa andò a prendere in cantina il busto dell'imperatore Francesco Giuseppe che lo collocò davanti all'entrata della sua casa e a partire dal giorno dopo come se non ci fosse stata una guerra come se non ci fosse una nuova repubblica polacca come se il vecchio imperatore non riposasse già da tempo nella cripta dei Capuccini come se il villaggio di Lopatenia pertenesse ancora al territorio della vecchia monarchia ogni contadino che si trovava a passare di lì si toglieva il cappello davanti al busto di pietra arenaria del vecchio imperatore e ogni ebreo che passava di lì col suo fardello mormorava la preghiera che il più ebreo deve dire al cospetto di un imperatore e il busto senza pretese scolpito in povera pietra arenaria dalla mano maldestra di un figlio di contadini il busto con la vecchia giuba militare del defunto imperatore con stellette in segne toson d'oro fissato nella pietra come l'occhio ingenuo del ragazzo lo aveva visto e amato acquistò col tempo anche un suo particolare valore artistico agli occhi stessi del conte Morstin era come se l'imminente soggetto più il tempo passava volesse perfezionare e nobilitare l'opera che lo raffigurava vento e pioggia lavoravano quasi con la consapevolezza di un artista l'innocente pietra era come se questa statua lavorassero anche venerazione e memoria e ogni saluto dei contadini ogni preghiera di un ebreo credente affinassero fino alla perfezione artistica la povera opera della mano di un giovane contadino così la statua stette per anni davanti alla casa del conte Morsti l'unico monumento che mai fosse esistito nel villaggio di Lopatini e del quale tutti gli abitanti del villaggio andavano a ragione orgogliosi ma per il conte che non abbandonava mai il villaggio questo monumento significava di più gli dava la sensazione che usciva di casa che nulla fosse mutato sempre più spesso invecchiato anzitempo com'era si sorprendeva ad avere pensieri piuttosto folli per ore e ore sebbene avesse preso parte la più formidabile di tutte le guerre si ostinava a pensare che essa fosse stata solo un sogno torbido e tutti i mutamenti che ad essa erano seguiti fossero sogni ancora più torbidi in realtà vedeva quasi ogni settimana che la sua opera di intersessione tra su uffici e tribunali a favore dei suoi protetti non trovava più a nulla anzi che i nuovi funzionali si prendevano beffa di lui era sbigottito più che offeso già era voce comune nella cittadina accanto come nei dintorni e nelle tenute vicine che il vecchio Morstin fosse mezzo matto si raccontava che in casa portasse la vecchia uniforme di capitano dei dragoni con tutte le vecchie decorazioni e onorificenze un giorno un proprietario terriero dei dintorni un certo conte Valewski gli chiese apertamente se era vero finora no rispose Morstin ma lei mi dà una buona idea indosserò la mia uniforme e anzi nemmeno in casa la porterò anche fuori e così avvenne da allora in poi si vide il conte Morstin nell'uniforme austriaca di capitano dei dragoni e gli abitanti non se ne meravigliarono affatto quando il capitano di cavalleria usciva di casa faceva il saluto militare davanti al suo comandante supremo davanti al busto del defunto imperatore Francesco Giuseppe e andava per l'usata via dai due boschetti diabeti lungo la strada sabbiosa che portava alla cittadina vicina i contadini che incontrava si levavano il cappello dicevano si è lodato Gesù Cristo e in più aggiungevano il vocativo signor conte quasi credessero che il signor conte fosse una specie di parente prossimo del redentore e che due titoli stessero meglio di uno ah da tempo ormai non poteva più aiutarli come li aveva aiutati prima i piccoli contadini erano tuttora impotenti è vero lui però il signor conte non era più un potente e come tutti coloro che in passato erano stati potenti e di ormai contava ancor meno degli impotenti poco mancava che facesse da parte agli occhi dei funzionari della categoria dei ridicoli ma il popolo di Lopatini e dintorni credeva in lui tuttora come credeva nell'imperatore Francesco Giuseppe di cui era solito salutare il busto ai contadini e agli ebrai di Lopatini e dintorni il conte mostri non sembrava affatto ridicolo bensì degno di rispetto rendevano onore alla sua figura magra allampanata ai suoi capelli grisi al suo viso scarno cinereo ai suoi occhi che sembravano guardare in una lontananza sconfinata non c'era da stupirsi guardavano infatti al passato perduto avvenne un giorno che il voivoda di Love che prima si chiamava Lemberg intraprendesse un viaggio di spezione e per un qualche motivo dovesse trattenersi a Lopatini gli indicarono la casa del conte Morstin ed egli vi si recò con suo grande stupore scorse davanti al piccolo palazzo in mezzo a un boschetto il busto dell'imperatore Francesco Giuseppe lo osservò a lungo decise infine di entrare in casa e di chiedere al conte stesso il significato di questo monumento ma si stupì ancora di più anzi sbigottì alla vista del conte Morstin che accolse il voivoda nell'uniforme austriaca da capitano dei dragoni lo stesso voivoda era un piccolo polacco vale a dire era originario dell'ex Galizia anche egli aveva prestato servizio nell'esercito austriaco il conte Morstin gli apparve come un fantasma uscito da un capitolo della storia che per lui il voivoda era chiuso da tempo si trattenne e sulle prime non fece domande dopo però quando furono seduti a tavola cominciò a informarsi cautamente sul monumento dell'imperatore si disse il conte come se non ci fosse affatto un nuovo mondo sua maestà di felice memoria è stata qui otto giorni un giovane contadino di gran talento ha fatto il busto è sempre stato qui finché vivrò starà qui il voivoda tacque la decisione che aveva appena preso e disse sorridendo come incidentalmente lei porta tuttora la vecchia uniforme si rispose morsi sono troppo vecchio per indossarne una nuova in borghese sa non mi sento del tutto mi agio da quando c'è stato questo cambiamento di cose temo se no che mi si possa scambiare con altri alla salute proseguì il conte alzò il bicchiere e beve alla salute del suo ospite il voivoda restò ancora un poco lasciò poi il conte e il villaggio di Lopatini proseguì il suo viaggio di ispezione si tornò alla sua sede e dette ordine di rimuovere il busto dell'imperatore davanti alla casa del conte Morstin quest'ordine giunse infine al borgomastro chiamato Voit del piccolo villaggio di Lopatini e quindi immediatamente dopo a conoscenza del conte Morstin per la prima volta il conte Morstin si trovava quindi in aperto conflitto con il nuovo potere e la cui esistenza finora aveva malapena preso atto capì che era troppo debole per opporsi ad esso si rammentò della sena notturna dell'American Bar di Zurigo ah non aveva più senso chiudere gli occhi davanti al nuovo mondo delle nuove repubbliche dei nuovi banchieri dalla testa coronata dei nuovi signori e signore dei nuovi dominatori del mondo bisognava sepellire il vecchio mondo ma bisognava sepellirlo degnamente e il conte Frank Xavier Morstin convocò nella sua casa dieci fra i più vecchi abitanti del villaggio di Lopatinì e fra questi c'era il saggio eppure semplice ebreo Salomon Pinawski vennero inoltre il parroco cattolico greco quello cattolico romano e il rabbino e quando furono tutti riuniti il conte Morstin cominciò il discorso che segue miei cari concittadini voi tutti avete conosciuto la vecchia monarchia la vostra vecchia patria da anni è morta e io ho capito che non ha senso non capire che è morta forse prima o poi risorgerà noi vecchi difficilmente faremo in tempo a vederlo è stato ordinato di distruggere al più presto il busto di sua maestà di felice memoria l'imperatore Francesco Giuseppe I Noi non vogliamo distruggerlo amici miei se è vero che i vecchi tempi sono morti noi vogliamo comportarci con essi come appunto ci si comporta con i morti noi vogliamo seppellirli di conseguenza io vi prego miei cari di aiutarmi affinché di qui a tre giorni sia data sepoltura nel cimitero al defunto imperatore ovvero al suo busto con la solennità e la riverenza che spettano al defunto imperatore il falegname ucraino Nikita Koloin fabbricò una bara grandiosa di legno di querza tre imperatori defunti vi avrebbero trovato posto il fabbro polacco Jaloslav Wojciechowski forgiò una poderosa aquila bicipita d'ottone che fu inchiodata sul coperchio della bara il copista ebreo della Torah Nuim Kapturak scrisse con la sua penna d'oca su un piccolo rotolo di pergamena la benedizione che gli ebrai credenti devono pronunziare al cospetto di una testa coronata l'avvolse in un foglio di latta lavorato col martello e la depose nella bara di primo mattino era un caldo giorno d'estate innumerevoli e invisibili allodole trillavano sotto il cielo innumerevoli e invisibili grilli sussurravano di rimando dai prati gli abitanti di Lopatini si radunarono intorno al monumento di Francesco Giuseppe I i contemosti nel volgomastro adagiarono il busto nella grande e splendida vara in quell'istante le campane della chiesa sulla collina cominciarono a suonare tutti e tre i sacerdoti si misero alla testa del corteo il feretro se lo presero sulle spalle quattro vecchi robusti contadini dietro ad esso con la sabola sguainata con l'elmo ricoperto di grigio verde dei dragoni camminava il conte Franz Xavier Morstin in quel villaggio l'uomo più vicino al defunto imperatore tutto solo in quella solitudine che il lutto richiede e dietro lui con lo zuccottino tondo e nero sulla testa argentata l'ebreo Salomon Pinovski il cappello tondo di velluto nella sinistra la grande bandiera gialla e nera con l'aquila bicipite nella mano destra e dietro lui tutto il villaggio di uomini e le donne le campane della chiesa rintronavano le allodole trillavano i grilli sussurravano senza posa la fossa era pronta si calò il feretro e si stese sopra la bandiera e Franz Xavier Morstin salutò per l'ultima volta con la sciabola l'imperatore a quel punto si levarono singhiozzi tra la folla come se solo allora si fosse seppellito l'imperatore francesco giuseppe la vecchia monarchia e la vecchia patria i tre sacerdoti pregarono così si seppellì per la seconda volta il vecchio imperatore nel villaggio di Lopatini nell'ex Galizia un paio di settimane dopo la notizia di questo avvenimento arrivò sui giornali che vi scrissero sopra un paio di spiritosaggini sotto la rubrica postille il conte Morstin però abbandonò il paese ora vive in riviera un uomo vecchio sciupato che la sera doca a scacchi a scat con vecchi generali russi un paio d'ore al giorno scrive le sue memorie è probabile che non abbiano un gran valore letterario il conte Morstin non ha nessuna pratica letteraria e nemmeno ambizioni letterarie siccome però è un uomo di particolare grazia e maniera gli riescono talvolta alcune frasi memorabili come per esempio le seguenti che col suo permesso pongo qui ho sperimentato scrive il conte che gli accorti possono diventare sciocchi i saggi folli i veri profeti mentitori gli amanti delle verità bugiardi nessuna virtù umana ha stabilità a questo mondo eccettuata una sola l'autentica devozione la fede non ci può ingannare perché non ci promette nulla sulla terra il vero credente non ci inganna perché non cerca alcun vantaggio sulla terra applicato alla vita dei popoli ciò significa che è in vano e si ricercano le cosiddette virtù nazionali che sono ancora più dubbie di quelle individuali per questo io odio le nazioni e gli stati nazionali la mia vecchia patria la monarchia sola era una grande casa con molte porte e molte stanze per molte specie di uomini la casa è stata suddivisa spaccata frantumata la io non ho più nulla da cercare io sono abituato a vivere in una casa non in una cabina così fiero e triste scrive il vecchio conte l'assegnato e tranquillo aspetta la sua morte probabilmente la brama anche perché nel suo testamento ha stabilito di essere sepolto nel villaggio di Lopatini e precisamente non nella tomba di famiglia ma vicino alla fossa in cui giace l'imperatore Francesco Giuseppe il busto dell'imperatore l'imperatore